Ola Todes, torna Time's Up, torna con la pausa olimpica perché comunque non ho fatto video in questo periodo poi c'è da dire anche volendo essere un po' presuntuosi che poi è andata bene anche a Marcel Jacobs che era stato protagonista di una delle rubriche scorse, tra l'altro a proposito dell'Olimpiadi già che ci siamo nei prossimi giorni uscirà un mio articolo su Sport Popolare in cui tratto un argomento delle Olimpiadi un argomento laterale, cioè gli atleti all'ultimo shot, all'ultimo gettone o quantomeno a quanto pare all'ultimo gettone e ci sono storie di medaglie d'oro, di medaglie d'argento, di bronzo o anche di non medaglie ma di atleti e gli atleti che hanno dimostrato di avercene, di essere competitivi e di volersela giocare comunque e comunque vada la puntata di oggi di Time's Up però esce dal range degli sport olimpici e racconta una grande storia o quantomeno continua a raccontare una grande storia che esiste ed è una storia abbiatata nel mondo del calcio gaelico il calcio gaelico è uno degli sport irlandesi, è uno sport che è legato non solo alla storia sportiva dell'isola d'Irlanda ma la grande storia dell'isola d'Irlanda famosissimo è il Bloody Sunday del 1920 che si svolse all'interno di Croke Park e fu una strage da parte dell'esercito britannico nei confronti del pubblico e di giocatori stipati sul campo e sulle tribune di Croke Park durante una partita di calcio gaelico strage che provocò la morte di 14 persone che poi per lunghissimo tempo portò un divieto per gli sport britannici di giocare a Croke Park di vieto che poi venne rotto in occasione dell'abbattimento dell'Eldor Road che poi è diventato l'attuale Aviva Stadium e in quel momento il Sele Nazioni di Rugby doveva trovare un luogo dove poter giocare la prima scelta di solito si gioca negli stati della capitale quindi Dublino la prima scelta era Croke Park ci fu un grosso dibattito e alla fine Croke Park riospitò partite di sport di origine britannica e non irlandese in particolare in quel Sele Nazioni fu particolare proprio la partita tra Irlanda e Inghilterra in cui i giocatori durante l'esecuzione dell'Irland School scoppiarono i lacrime e poi l'Irlanda giocò una partita esaltante vincendo se non ricordo male per 43 a 17 comunque un grandissimo spettacolo di rugby e di unità irlandese ma sarebbe tante cose da dire comunque calcio gaelico e andiamo in un luogo che è la Contea di Maio perché? non Luigi Di Maio di Maio perché? perché nel calcio gaelico funziona così non ci sono le squadre normali ci sono le squadre delle contee che poi formano le varie province irlandesi e non esiste calcio mercato tu nasci in un posto e giochi soltanto per la squadra del posto cioè Athletic Club Spostati quindi proprio siamo a quel livello lì Maio è una delle grandi squadre del calcio gaelico tra l'altro potremmo spiegare praticamente le squadre della Contea relativa alla provincia nel caso di Maio quella di Galway si incontrano nel corso dell'anno fino a indicare la squadra campione di ogni provincia che quindi poi si affrontano nelle due semifinali che si svolgono a Croke Park e nella finalissima Orr Island che si svolge anch'essa nell'impianto di Croke Park Maio quest'anno ha vinto il campionato della provincia di Galway e poi ha affrontato la semifinale contro la squadra campione del torneo di Leicester che era Dublino detentrice del trofeo Orr Island che aveva vinto l'anno scorso in finale proprio contro Maio Maio ha vinto 17 a 14 anzi volendo essere precisi 0 a 17 contro 0 a 14 ed è arrivata la finale dell'Orr Island e fin qua non c'è granché da dire tra l'altro perché 0 a 17 praticamente il calcio calico volendo essere volgari è un misto tra calcio e rugby soprattutto nella porta perché tu cosa hai hai la porta da calcio quello normale e poi sopra partono delle hacke gigantesche e quindi è come se sulla trasversale del rugby ci fosse una mega porta da calcio ogni punto segnato nella porta sopra i pali vale 1 ogni gol segnato vale 3 punti e quindi la somma dei punti ci fa il risultato finale qual è la storia? la storia è quella della maledizione di Maio la maledizione di Maio cos'è? poi entriamo in alcuni aspetti di questi anni Maio vince il terzo titolo All Island nel 1951 si fa una grande festa praticamente i giocatori vengono celebrati in giro per tutti i paesini della contena di Maio a un certo punto si fermano in un posto che si chiama Foxford Foxford è un paesino ha un migliaio di anni ma poco più comunque in mezzo alle campagne le celeberrime scogliere di Maio non sono tanti lontani però vabbè sembra un posto qualunque il problema qual è? è che in quel momento c'è un funerale c'è un funerale e il prete di Foxford diciamo che non gradisce la presenza degli atleti di Maio che festezza e gozzovigliano a quel punto lancia una maledizione finché sarà vivo anche solo uno di voi Maio non vincerà più un titolo All Island come è andata la storia fin dall'89 Maio non gioca nessuna finale arriva nell'89 perde la prima poi ne perde altre due nel 96 e nel 97 c'è un buco di qualche anno si arriva al 2004 nel 2004 la maledizione di Maio raggiunge i livelli incredibili Maio gioca sette finali sette signori e le perde tutte qual è la cosa incredibile è che le finali le perde in maniera allucinante prendiamo solo quelle del 2013 del 2016 e del 2017 le perde tutte di un punto di uno compreso cioè gol e palla lanciata sopra i pali perde tutte e tre di un punto oppure quella dell'anno scorso contro Dublino Maio è in vantaggio di un punto si gioca sugli 80 minuti Dublino all'ultima azione che parte a 79 59 c'è recupero c'è un secondo al termine Dublino sull'ultima azione pareggia va al supplementare e dilaga poi il punteggio fino a 2 a 14 per 0 a 15 quindi totale 20 a 15 per Dublino la maledizione di Maio si accranisce particolarmente su Dublino o quantomeno Dublino si accranisce particolarmente sulla maledizione di Maio perché perché Maio non vinceva contro Dublino da 9 anni e quasi sempre in finale aveva vinto nel 2012 in semifinale e adesso all'altra finale adesso avrà la finalissima che si gioca dall'11 settembre a Croke Park qual è la particolarità che quando ha vinto 9 anni 9 anni fa contro Dublino ha vinto di 0 a 19 contro 0 a 16 cioè 3 punti di vantaggio tra l'altro sei di finale incredibile perché Maio a 2 minuti della fine sotto di 2 punti pareggia va a supplementare e vince di 3 quindi è andata anche sotto di nuovo perché è una fida sul 13 pari poi è andata 14 a 13 e poi Maio ha dilagato nei 2 supplementari dopo ora qual è il guaio di Maio in questi 30 anni di finali maledetti di Maio a parte quella del 2012 persa contro Donegal o l'ha persa contro Dublino o l'ha persa contro Kerry Kerry è una delle due squadre semifinaliste dell'altra serie finale che si giocherà tra il prossimo 28 agosto a Croc Park e quindi siamo lì siamo sempre su questo crinale maledetto la storia di Maio paradossalmente non ha intaccato il rapporto tra la squadra e la sua gente anzi lo addirittura ha rafforzato le immagini del pubblico commosso sono incredibili emozionantissime si potrebbe andare ora a parlare di questa cosa ora concludo con un fatto io vi ho raccontato come nasce la maledizione c'è da dire due cose uno che al momento sono soltanto due i giocatori della squadra di Maio del 1951 a essere ancora vivi per fortuna il covid non li ha ancora ammazzati e due tra le mille cose che sono state fatte anche andare a farsi benedire dal papa perché ovviamente sono irlandesi quindi anzi sono irlandesi cattolici quindi un giro in santa sede si fa sempre non si sa mai nella vita qual è il punto vero è che qualcuno è andato a verificare ma in quel giorno lì a Fosford c'è stato o non c'è stato sto maledetto funerale e la risposta è no a quanto pare il funerale non c'è mai stato e allora la maledizione comandrà a finire magari lo raccontiamo il prossimo 11 settembre quando Maio per l'ennesima volta si giocherà la finale e proverà a rompere una delle maledizioni più incredibili della storia dello sport time's up torna presto ciao